Ciao, sono Giulio Colnaghi di Milestone. Oggi vorrei presentarvi la nostra soluzione per l'organizzazione di polluto organico in sampli ambientali, l'ETHOS-X, che è il risultato del feedback di molti labi ambientali. La sua input guida il nostro sviluppo del nuovo ETHOS-X, potenziato da FASTX24 Rotor. per rispettare specificamente i risultati dei laboratori ambientali di oggi. La stazione di Milestone ETHOS-X, in combinazione con la nostra FASTX24 Rotor, offre al vostro laboratorio l'extraczione simultanea di 24 sampli in 40 minuti, con usaggio di soluzione minima. Il nostro materiale unico unico materiale unico riluppo, e facilita la monitorazione di temperatura accurata di tutti i vessels. L'esercizio contiene 100 ml, permettendo di esercizare i sampli di 30 grammi, mentre eliminando l'effetto di memoria e il riluppo. Il risultato è il risultato più alto e il risultato più facile, risultando in costi riduciosi e il tempo di girare per il tuo lab. Grazie a tutti! Grazie a tutti!